Ciao a tutti, come si comportano i narcisisti? In questo video voglio spiegarti come si comportano, qual è il comportamento che i narcisisti mettono in atto nelle loro situazioni, qual è il comportamento prevalente che i narcisisti hanno e come possiamo riconoscerli. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Allora, vediamo quali sono i comportamenti tipici dei narcisisti. Primo, mancano di empatia, non hanno capacità di empatia. L'empatia è la capacità di entrare in contatto profondo con le altre persone, nel riuscire a percepire le loro emozioni, riuscire a percepire l'emotività delle persone. Il narcisista manca completamente di empatia. Oppure è una capacità che è fortemente limitata. Seconda caratteristica, richiedono continue attenzioni, cercandole in chiunque ed avendo bisogno di queste attenzioni per convalidare la loro esistenza. Terza caratteristica, si sentono grandiosi, come se fossero i migliori degli altri, unici e migliori di tutti quelli che li circondano. Il narcisista in particolare vuole controllare le persone, vede il mondo come un qualcosa a sua disposizione. e le lenti, diciamo, con le quali vede il mondo sono lenti completamente distorte. Lui interpreta il mondo non come, diciamo, fatto di persone con i loro bisogni, con le loro caratteristiche, ma come qualcosa di cui appropriarsi. Il narcisista, diciamo, tende quindi a avere una visione completamente distorta dalla realtà. È estremamente difficile da capire e il suo cuore, diciamo, è completamente chiuso all'amore. Tende ad essere reattivo quando viene criticato. Si pensa che il narcisista abbia una forte autostima. In realtà non ha proprio autostima. Ha un delirio di ogni potenza che è diverso dall'autostima. Anzi, è un meccanismo di difesa che di fatto è un qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'autostima e spesso cova rabbia, vergogna, rancori. Non vuole essere criticato, vuole essere sempre al di sopra di tutto. Le sue parole devono essere leggi. Cercherà quindi di stravolgere i fatti facendo gaslighting, cioè mettendo l'altra persona, mettendo le persone in contraddizione, quindi vuole fare di tutto per colpire gli altri, ha di fatto una bassa autostima che però trasferisce nell'inverso, quindi nel delirio di ogni potenza. Questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. Il narcisista, le persone che hanno autostima sanno dare valore a se stessi e sanno dare valore anche agli altri, quindi il narcisista di fatto ha una forte disistima e quindi vuole solo sentirsi stimato dagli altri, ma non in modo positivo, in modo potremmo dire coercitivo. Tende ad avere reazioni colleriche con le altre persone e quindi ha un modo di fare estremamente negativo. Non percepisce la realtà così com'è, ma percepisce una versione completamente distorta dalla realtà. Quindi è importante riuscire a identificare un narcisista, osservare le persone che si illudono di essere grandi quando non lo sono, sono ossessionate dal potere, dal successo, hanno sempre bisogno di avere le altre a disposizione, hanno sempre bisogno di ammirazione, tendono a manipolare gli altri, non hanno empatia, hanno invidia e vergogna, arroganza e controllo, quindi hanno tutte queste caratteristiche. Il narcisista vede se stesso è ossessionato come la persona migliore del mondo e ha la necessità praticamente di apparire superiore agli altri, è ossessionato, diciamo, dal successo, dal potere e, diciamo, e brama l'attenzione di tutti. Quindi questo è, brama la necessità di controllare tutti. La pretesa è quella di essere continuamente ammirato e per fare questo tende a sfruttare, a manipolare le altre persone, mentirà, farà la vittima oppure, viceversa, intimiderà, minaccerà, sfrutterà le altre persone, insomma. Questo è quello che mette in atto quotidianamente. Non ha empatia, tende ad avere invidia, vergogna, arroganza, controllo. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali che ha il narcisista. Quindi, se tu hai a che fare con una persona che ti rendi conto che ha queste caratteristiche, sappi che hai a che fare con un narcisista e quindi cerca di allontanarti, perché se hai a che fare con un narcisista rischi di ottenere esattamente il contrario di quello che tu puoi ottenere. Talvolta i narcisisti covert fanno le vittime, si manifestano in modo subdolo, in modo nascosto, per cui è difficile riconoscere. Cerca di osservare i comportamenti, fai attenzione a come agiscono le persone. Spesso i narcisisti dicono una cosa e fanno tutto il contrario. Questo è anche un modo per capire. potrebbero dirti che ti amano, quando però in realtà non fanno di tutto, meno che darti amore fondamentalmente. Quindi, questo è anche importante. Spesso si manifestano come collerici, frustrati. Sono tutte caratteristiche che ti fanno capire che hai a che fare con un narcisista. Se, inoltre, a tutto questo aggiungi il fatto che cerca di manipolarti, di indirizzarti a fare delle cose che tu non vorresti fare, beh, allora potremmo dire che hai fatto la prova del 9, 2 più 2 fa 4, e quindi il narcisista è tutto quello che può farti, diciamo, l'unica difesa è l'allontanamento. Non ci sono altre difese che prendere argutamente le distanze. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo e mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!